Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Questo sito contribuisce alla audience. Ancora un nulla di fatto. Dopo giorni di attesa e speranza, è arrivato l'annuncio tanto atteso. Poco fa, infatti, i genitori di Angela Celentano hanno reso noto i risultati del test del DNA sulla ragazza venezuelana che si ipotizzava potesse la piccola scomparsa sul faito nel 1996. Come riporta l'ego.it, la ragazza venezuelana non è Angela Celentano. Sfuma, così, un'altra pista. Assistiti dall'avvocato Luigi Ferrandino e affidatisi alla consulenza del generale Garofalo per la comparazione genetica, i genitori di Angela Celentano hanno annunciato poco fa che la ragazza venezuelana non è la piccola scomparsa. Due dettagli avevano fatto ben sperare. Il neo e la voglia sulla schiena, che ricordavano proprio quelli della piccola scomparsa sul faito.